Ok, stiamo tornando a casa, vinto l'episodio. Il caro figlio là, stiamo a mangiare cose. C'è, abbiamo fame? No, veramente. Stiamo arrivando a casa, 5 minuti. Non c'è un botto di traffico. Però adesso ci stiamo muovendo. Infatti, si quasi vedo degli alberi. Mi sono sparati a mia madre. Aspetta. Aspetta. Vabbè, ci sono più alberi. Cioè, stamattina mi sono... Mamma, sai che stamattina mi sono svegliata e avevo 107 messaggi. Madonna, tutti quei... Allora, metà ce l'avevo dà la quinta a dietro. Poi, che erano 99 messaggi, tipo. Poi altri 7, da 5 Daniele. Uno con un gruppo che hanno inventato, tipo... Quelli chiacchierini, tipo. Ehm... Vabbè. Vabbè. I che? No, i chiacchierini. Non me lo mi ricordo. Non mi ricordo... Non mi ricordo... Questa mamma già... Te le consiglio, cioè buonissime. Te le consiglio, ma sono buonissime. Ora vediamo una cosa per un'altra tua chiesa E qui a quanto pare è blu Che schifo Sa te patatire Senti quello che mi aveva detto alla cara Ma non vi fate schifo Perché Federico si stava a mangiare Non vi fate schifo Questo è inizio a chiaro Ma giù che figo Si so gli auricolari Oh guarda Devi metterlo qua dentro vai Senti la musica Ma qua c'è anche lei Senti i auricolari a posto Ah è doppio Questo è il Tilon 2 E se ci metti due auricolari Ci metti due auricolari così non possiamo poter sentire due Se riesco ad aprirlo porco 2 Per mio c'ha pure un bel colore Molto utile Utilissimo Nero Ma troppo bene Guarda che figata Guarda dentro dentro il burbino Delle auricolari Qui ci metti gli auricolari che ti fai Ce ne puoi mettere due Per sentire due Senti i auricolari Senti i auricolari Ah si puoi mettere due auricolari Dammi è il nero Ah ma E tal telefono Sì Perché metti e tu fieni questo Non ci metti due auricolari E poi ce lo senti insieme Quando hai il nero Si Il mio è più figo Forza Forza l'inter L'inter è blu Lo sai Blu nero Ah no guarda Tu sei Tu sei laziale Vedi che C'hai quello la De la lazio Tu c'ho quello rosso e questo nero Fino adesso Io sono del C'ho il contorno della Roma Tutto nero Io so perché Io c'ho la lupa La lupa sullo scodetto è nera Non ho poterlo di niente Alleluia Forza Roma 522 Vabbè Oddio che carino Oddio Cosa? Spergerò musicali per fare tutto Tipo di volo Che figato è vero Serve anche per musicali sta roba Però io non sono Una muser Musica Io sono una muser Ammazza I muser sono quelli che fanno i musicali Non so Non so Si capisce dalla Dalla cosa Dalla parola Dalla wakbar E perchè ancora l'acqua non ha dire quella Questo video si chiamerà Tempesta 1 Tempesta 2 Tempesta 3 Tempesta 4 Tempesta 5 Tempesta Giacomo Un camera due o meno? So blue every day E' sporca macchina Vediamo l'ombrello caro? Sì, non è la prima volta Piove 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 Raga 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 Piove 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 Casa Dolce casa Casa dolce casa Igoo frasico Stai a continuare il video? Ok. Ma lo ho chiudato No, non chiuderlo Mi dispiace ma devo chiuderlo Bella ragazzina è chiuso un attimo ancora raga